Oh buongiorno signori, è ora di dire buongiorno, sono le 4 di mattina, 4 di notte, single in tour, hanno attraversato la Lombardia, la metà dell'Emilia Romagna e sono già qua in Emilia Romagna ragazzi, questa è la maniera, a quest'ora, bomboloni, ecco qua, e vai, abbiamo tutti i nostri super in forma, qui, siamo in mezzo alla strada, super svegli, pronti per andare a mangiare i bomboloni, oh buongiorno, come va? Tutto ok? Bene, lei signora, tutto a posto? Signora, ma lei cosa fa di mestirla, modella? Eh sì eh, guardate qua ragazzi, benissimo, no no no, siamo qua che dobbiamo vedere dove sono i bomboloni ragazzi, altro che chiacchiere, noi a quest'ora vogliamo mangiare bomboloni, ecco qua il nostro forno pasticceria, ecco qua, vedete, qui siamo in un facoltoso paese, eccolo qui, vai, vai, forno del borgo ragazzi, vai, benissimo, e vai, buongiorno, non c'è niente, io prendo un po' di quella, no dolce no, guardate che meraviglia ragazzi, cosa scegliereste voi? Ah un po' di pizza eh? Buongiorno, buongiorno, wow come bella sveglia, vai forza, io vorrei un bombolone alla crema, si c'è, e vai, così,